Svesti, svesti, muoviamoci! Una volta queste erano delle passeggiate. Eh già, bischi, ambienti eleganti e belle donne. Ho tutto il più qualche pezzo grosso che se la faceva sotto. Invece adesso mafia, droga, delitto, capace pure che si scappa qualche morto. Ma che c'è qua su? I caricatori con i mitra, commissario. E mettele dietro, no? Aio, porcazzuzza! Che c'è? Lo spari, sono io! Signor commissario, mi può arrestare pure come clandestino. Se vuole io non mi oppongo. Commissario, devo fermare. No, no, corri, corri, che è già tardi. Dove andiamo? A fanculo. Allora io vi aspetto in macchina, eh? Lei stia qui e non si muova. Questi sono trafficanti di droga e quando ci vedono non hanno nessuna voglia di scherzare. Tia giù, tia giù! Signor commissario, non mi può mica lasciare così. Io non mi fido a stare qua in macchina. Signor commissario! Rispondete a fuoco! Andate piano di fuoco! Passate da dietro! E questi lo scherzano manco con me! Andate, andate dentro! E meno male che sono cascato sulla farita. Ma perché la tengono qua? È umido. Mi si rovina. Che sapore strano che c'ha. Fermo, sei in arresto! Ma che arresto? Mettetevi gli occhiali. Ah già, tu ce l'hai. Levateli allora. E pallavieni! Sì, commissario. Allora? È tutto bene, solo due feriti, ma della droga nessuna traccia. Abbiamo cercato dappertutto. È strano. L'informazione parlava chiaro. 50 kg di cocaina. Sono sicuro, non può che stare da queste parti. Tirate su che ho capito tutto. Forza. È tutto chiaro. Forza, forza! Sì, piano però, eh. Eccolo, attenzione. Eccolo vitto. , è un pallon! Che farina, commissario! Che farina! Che farina! Eccolo!